Nella notte il personale del commissariato Barriera Milano, transitando in corso Giulio Cesare, ha notato alcuni passanti che invocavano aiuto. Gli agenti hanno subito visto una donna gravemente ferita al volto che tuttavia è riuscita a indicare nel suo attuale compagno l'aggressore, un cittadino tunisino di 36 anni. A poca distanza i poliziotti hanno notato l'uomo a terra, sporco di sangue, in via Verra e sangolo via Lenì. Gli agenti hanno preso che poco prima i due stavano tornando in autobus a casa della donna. Durante il tragitto la vittima ha manifestato l'intenzione di interrompere la relazione, avendo scoperto che il suo compagno era attualmente detenuto in carcere per un precedente omicidio, di cui è scaturita l'aggressione, nel corso della quale il 36enne ha tentato più volte di arrivare al collo della compagna, procurando gravi ferite al volto con una bottiglia di vetro. La sciarpa indossata dalla donna probabilmente ha scongiurato il peggio. A seguito di accertamenti è emerso che il reo era detenuto presso la casa circondariale Lorusso Cotunio, con permesso di assentarsi per motivi lavorativi. In particolare l'uomo svolgeva attività lavorativa presso un bistro a Grugliasco con obbligo di far rientro presso la casa circondariale entro le due di notte. Il cittadino tunisino infatti era stato condannato per l'omicidio avvenuto a Bergamo nel giugno del 2008 della sua ex ragazza. Il 36enne arrestato per tentato omicidio è stato trasportato in ospedale perché nel tentativo di fuga è caduto per terra. Grazie per la visione!